La curva della felicità, scopri a che età sarai più felice. La felicità può essere rappresentata attraverso un grafico, attraverso degli studi statistici ovviamente, in questo caso sono degli studi fatti dall'Università di Melbourne. Che cosa è emerso da questi studi? La ricerca è analizzata attraverso dei sondaggi, quindi è un fattore statistico, è un campione molto vasto di 1,3 milioni di persone provenienti da 52 paesi ed è emersa questa curva della felicità in funzione dell'età. Allora da 0 a 30 anni, cioè l'età dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'università, dell'aspettativa del futuro, la percezione della felicità è molto alta, circa 8 punti su 10. Invece inizia a scendere man mano, perché ha già 30 anni, diventa circa 4 punti su 10 e tra i 30 e i 40 anni ci si sente il carico delle responsabilità, c'è tanta voglia di realizzarsi, ma tante preoccupazioni. Per cui si tende a percepire una felicità più bassa, intorno a 2 punti su 10. Andando avanti, dai 40 ai 50 anni è il periodo dei bilanci e anche qua la felicità è abbastanza bassa, insomma dai 2 ai 3 punti, comunque in salita. Tra i 50 e i 60 anni è una fase un po' di stallo, le occasioni mancate si fanno meno pressanti, inizia però la fase della rinascita e della consapevolezza in cui tendenzialmente si requista serenità e la percezione della felicità inizia a salire, inizia a arrivare a 4-5 punti su 10. E poi tra i 60 e i 70 anni ritorna il picco della felicità perché ci si sente liberi di coltivare i propri interessi e di affrontare questa fase particolare della vita in una maniera spesso serena. Quindi si torna diciamo fino a 8 punti su 10 come era da 0 a 30 anni, cioè non è la prima fase dell'infanzia. Questo statisticamente come percezione della felicità, poi sappiamo che è una percezione interiore. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. tra cui il nuovissimo esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ciao a tutti e ti do appuntamento al prossimo video!